Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate. Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, bell'occhi di Fano. Buonasera e bentornati a Sportissimo, puntata numero 25, che è anche la settima di questa seconda stagione del settimanale di Fano TV. Apriamo con il calcio, con il campionato di Serie D, con l'Alma Juventus Fano, tutti argomenti di cui è profondo conoscitore il nostro ospite di questa sera. Abbiamo in collegamento Andrea Mosconi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Andrea, ben ritrovato. Dicevamo di un campionato di Serie D che Andrea Mosconi conosce come le proprie tasche, in particolare questo girone, è stato allenatore lo scorso anno dell'Alma Juventus Fano, ha iniziato questa stagione a Campobasso dopo un divorzio che ha lasciato un segno profondo nell'ambiente, credo nello stesso Mosconi, ma ne parleremo tra poco. avventura che a Campobasso è terminata molto prima del tempo. Circoscriviamo subito la riflessione intorno a questa esperienza così fugace a Campobasso. Cosa non ha funzionato Mosconi? Neanche iniziata, avremmo le prime giornate. Del Campobasso non voglio parlare, ne parlerò a fine campionato perché è stato anticalcio. Non voglio fare polemica, però meglio che non mi addentro ancora perché sono contratrizzato con loro e non voglio dire cose spiacevole, però non c'è niente a che vedere con il calcio. Una proprietà che parte per vincere e ribalta tutto dopo 4-5 giornate con il direttore e allenatore che hanno fatto la squadra, significa che non c'è l'idea di gli aree all'inizio. Punto. A Campobasso sei arrivato nel giro di pochi giorni immediatamente a ridosso della presa di coscienza che il Presidente russo qui a Fano non avrebbe rilanciato, ma anzi ridimensionato pesantemente il proprio impegno. Sono stati giorni molto intensi, quelli dell'inizio dell'estate scorsa, come li hai vissuti e come li stai vivendo a distanza di mesi? Male, male perché io ho fatto due anni di riuscire con il Presidente e stiamo parlando di portare avanti il nostro progetto basato sui giovani, due anni di contratto, lavorizzazione, cercare di alzare l'astricella, anche perché quello che abbiamo fatto la stagione passata, quarti, vincere i play-off, uno più uno, era fare luttare per vincere. Noi all'inizio, quando era iniziata l'avventura mia, avevamo parlato così di una cosa programmata nel giro di due o tre anni. Dopo proprio a ridosso della partita di Trastevere, lui una sera mi ha chiamato, si era risentito per questo atteggiamento dei tifosi verso Rino, che hanno fatto il sostricione, mi ha detto ti puoi considerare libero, non ti voglio trattenere perché io sicuramente voglio vendere il Fano. E lì è stata dura, è stata dura in avanti, è dispiaciuto perché il Presidente gli piace fare calcio e farlo per bene. E questa diatribia che c'è con i tifosi è brutta, perché alla fine lui ci mette soldi, impegno, è dura. Io so l'amore che c'hanno i tifosi verso la maglia del Fano, ma posso anche dire la serietà del Presidente verso anche il Fano, è normale. Il sogno sarebbe che riuscissero a sedersi e parlare e andare d'accordo, perché per il bene di tutti. È difficile, però io so che il Presidente è tipo emozionato, pure quando noi all'inizio erano partite con Mancini e le avevano vendute a Lazio, lui era il Presidente più felice del mondo, ma non a livello economico, quella soddisfazione che ci abbiamo avuto di valorizzare un ragazzo, era tutto contento, voglio dirlo io ai genitori, io queste frasi mi riporterò sempre dentro. Dopo lì è saltato tutto perché si sono messi in mezzo i procuratori, però la soddisfazione sua era che un ragazzo di Fano era riuscito a venderlo alla Lazio. Sicuramente se non c'erano queste diatribie si potrebbe fare qualcosa di importante. Mi dispiace perché Fano è una grandissima piazza, il Presidente quello che promette sarebbe da fare un trattunione tra le parti, perché io con lui la stagione passata mi sentivo due o tre volte a settimana, sugli allenamenti, su tutto, era un Presidente partecipe, anche se era lontano, se è venuto poco, però lui vedeva tutto e sapeva tutto. A me mi dispiace perché una volta che mi ha liberato, poi è normale, mi si è aperta questa occasione di andare a Campobasso, ma lui sapeva che se mi diceva, mister io riparto, io avrei rifiutato tutte le squadre possibili, anche a meno soldi perché lui sa che io per il Fano avrei firmato in bianco. Di quella squadra sono rimasti non tantissimi, ma qualcuno è rimasto, soprattutto dei più giovani, una squadra che domenica è stata impegnata sul campo dell'Atletico Ascoli, non semplice, soprattutto in questo momento in cui l'Atletico Ascoli sta riemergendo, è finita 0-0, una partita scandita dalle espulsioni, quella di Gonzales dopo poco più di mezz'ora, e vediamo appunto le immagini che hanno portato al cartellino rosso, poi quella di Camilloni, difensore dell'Atletico Ascoli, dopo un quarto d'ora della ripresa, Atletico Ascoli che ha avuto più a lungo l'iniziativa e forse anche le possibilità migliori in una partita in cui comunque di pallegol, pallegol vere e proprie, non ce ne sono state moltissime. Tu avevi visto all'opera quest'alma in occasione della sfida con la Digor Senigallia, che impressione ne hai avuto e se ti ha sorpreso la decisione della società di Scorsini di separarsi? Non più di tanto, perché conoscendo un po' l'umore del Presidente, l'umore un po' in generale, mi dispiace, perché quando si interrompe un rapporto con un collega che tra virgolette stimo, fa male a tutti. Domenica è stata una partita in equilibrio, ma io dico soltanto una cosa, chi viene a allenare il Fano, chi c'è la fortuna trova un gruppo di ragazzi eccezionali, un gruppo di ragazzi veri, che è uno spettacolo a allenare. Io non ci sono più a Fano, però gli è rimasto tra virgolette il DNA mio, di non sentirsi inferiori a nessuno, di andare a giocare all'attacco. Questi ragazzi sono questi, loro devono correre in avanti, devono essere liberi, perché sono principi e concetti che abbiamo lavorato l'anno scorso. È un gruppo dei giovani, magari ce li ha avuti a Campobasso, il parco giovane che c'era Fano, ma questo dico tranquillamente. Ma anche come cultura del lavoro, sia in età, quando io sono andato a trovarli, è come se avessero rincontrato un papà, proprio abbracciarci con tutti. È stato bello, mi hanno fatto emozionare, perché si vedevano che erano abbracci veri dei ragazzi che c'era stima da ambo le parti. Dicevamo della sfida con la Vigor Senigalli, a cui hai assistito dal vivo. Che partita è stata, secondo la tua lettura, il risultato alla fine è stato quello più corretto, anche se poi l'alma può avere la mano in bocca per essere stata raggiunta dall'ex broso proprio nel finale. Alla fine è stata giusta come risultato, però sul 2-1 se facciamo gol del 3-1 la partita si chiude, dopo è normale, ti sei sempre difeso. Se facciamo gol ti è scappato un se facciamo gol, eh? Sì, sì, ma io ancora mi sento a Maria Granata addosso. Quando sono stato in tribuna ho risultato pure, non è quello, perché è così. Mi ha fatto piacere come mi hanno accolto i tifosi in tribuna con l'applauso. Però è normale, dopo se fai tutto il secondo tempo in difesa, prima o poi il gol lo prendi. Io secondo me il Fano c'è un barco d'attaccanti importante davanti, perché Padovani, Tangorani, Zammarchi, sono tutti valori eccezionali per la categoria. Per me sono giocatori fortissimi, che non dedico rivali, però già giocano col top della categoria. Ad allenare l'alma dopo il divorzio da Scorsini c'è Alberto Rondina, con il quale ha avuto modo di interagire lo scorso anno perché guidava la Juniors. Alberto Rondina che al suo esordio vero domenica scorsa è stato espulso, purtroppo è notizia di queste ore che è stato squalificato addirittura per quattro giornate. Ora sembra che la decisione del presidente russo al momento sia di insistere con Rondina. Certo, questa punizione esemplare, forse anche eccessiva, può ulteriormente alimentare qualche riflessione. Come vedi Rondina e come vedi in generale la situazione? No, la situazione di questa mi dispiace, perché quattro giornate sono pesanti. Rondina è normale, è un ragazzo di Fano, ci tiene, era magari la prima volta che guidava da responsabile il Fano e magari si è sentito troppo preso. Non è facile tenere da parte gli entusiasmi, però è un ragazzo di Fano che ci tiene, gli auguro tutto il meglio, però è normale, quattro giornate sono dure. Già è dura, perché era un debuttante, portare avanti, poi quando alleni la squadra della città, è difficilissimo. Però, se il presidente decide andare avanti con lui, sicuramente avrà fatto tutte le valutazioni del caso, insieme a Pantaleone e tutta la società. è normale, se riuscissero a portare la nave in porto sarebbe bello e importante, sarebbe anche giusto, perché secondo me il Fano non ha niente da infidiare all'altra squadra, però il Fano è puro sangue, non può giocare in difesa, il Fano non deve avere paura degli avversari, perché è Fano, anche se sono ragazzini, devono correre, se la dobbiamo giocare con tutti, se la dobbiamo giocare con tutti, poi puoi perdere, puoi vincere, però io mi ricorderò sempre, la prima volta che sono andato a Fano, l'appuntamento con i tifosi, mi hanno detto che loro vogliono soltanto onorare la maglia, vogliono l'impegno, e questi ragazzi secondo me stanno facendo un lavoro eccezionale e vanno sempre incoraggiati, perché essendo Gioni poi sono anche di Fano, è un valore aggiunto, a me piacerebbe Fano che diventasse tipo la piccola Atalanta, una cosa del genere, io la sogno, la vedo, però per fare queste cose ci vuole tanta sinergia da tutte le parti. Scopriamo definitivamente il campo da un equivoco, Andrea Mosconi non potrà tornare ad allenare l'alma, almeno in questa stagione, perché il regolamento glielo impedisce, nonostante il suo divorzio dal Campobasso si sia consumato prima di un certo termine, perché qualcuno alla tua presenza sugli spalti, a seguire Alma Vigor Senigaglia, ci aveva fatto un pensierino. Sì, ma anch'io, perché purtroppo il regolamento è quello, al Presidente ho detto, se non mi presento uguale al campo, gli ho detto, ho fatto la battuta, purtroppo c'è questo regolamento che ci blocca da ambo le parti, perché penso che la stima sia reciproca, e non era questione, tanto il prezzo sa come ragiono io, e io so come ragiona lui, noi abbiamo fatto un capolavoro l'anno scorso, e bisogna anche portarla a termine, perché pure col Senigaglia io ho contato, c'erano quasi sette undicesimi dei ragazzi che allenavo io, e quello è un motivo di orgoglio, perché giocano ragazzi che già hanno 30 partite sulle spalle, non è facile in interregionale. Io mi auguro che il prezzo riesca a portare la nave in porta anche quest'anno, e lascia aperta una piccola parentesi, magari con capi tifosi, sedersi, fare una pace per il bene di tutti. So che è un sogno, so che è dura, però quello che dico io, trovare imprenditori che mettono soldi nel calcio, non è facile. se riuscissero a trovare questo tredunione, potrebbe diventare una cosa bella, per tutti, ci guadagnerebbero tutti. So che sto dicendo una cosa grande, però io la vedo così, perché ci sogno, sogno. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultimo. Sogno perché mi piacerebbe anche ritornare. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultimo turno, con la Sammeredettese, che nello scontro diretto con i Chieti è stata raggiunta proprio nel finale, mentre alle sue spalle il Campobasso, che Mosconi ha guidato nelle prime giornate, ha avuto la meglio su un Fossombrone, che però anche sul terreno dei Molisani ha dato prova di buona efficienza. Altro scontro al vertice, quello fra l'Aquila e l'Avezzano, che ha premiato la squadra di casa, mentre la Vigor Senigalli è stata fermata dal Sora sull'1-1. Anche la classifica ora, con la Sammeredettese, che guida con un margine comunque già significativo, anche se non ovviamente decisivo, tre punti sul Chieti, ha quattro lunghezze il Campobasso, a cinque Avezzano e l'Aquila, Alma appagliata all'Atletico Ascoli, al limite della zona play-out. È una classifica, secondo te Andrea, che rispecchia quelli che sono i valori? All'incirca sì. Calcolato che il Fanno avrebbe 15 punti e il Fossombrone sarebbe appagliati, perché secondo me quella partita lì il Fossombrone non si è comportato bene. Da vicini di casa, da cugini, sono stati antisportivi. E mi dispiace dire queste cose, però non si comporta così con una società che ti è stata sempre vicino, ti ha dati i giovani, i giocatori, c'era un lavoro insieme. E a me sinceramente questa cosa per i tre punti mi è dispiaciuta parecchio. Però c'è sempre una giustizia divina, come dico io. A gioco lungo, sicuramente il Fanno arriverà prima del Fossombrone. E lì davanti se la giocheranno la promozione quelle 4 o 5? Chi vedi favorite? Secondo me è la San Benettese. San Benettese perché hanno la proprietà importante, il direttore sportivo è importante e soprattutto lo vincolo perché hanno equilibrio. Equilibrio societario che fa la differenza. I campionati sì, lo staff tecnico è importante, la squadra è importante, però a gioco lungo lo vince sempre la società. È la società che fa la differenza. e secondo me lì c'hanno tanta unione di intenti, tra virgolette come noi l'anno scorso a Fano, nel periodo critico il Presidente non mi ha messo in discussione, 9 partite, 5 punti, siamo rimasti uniti e poi alla fine siamo in orari di quarti e abbiamo vinto i play-off. È stata una soddisfazione, penso, doppia anche per Presse perché magari i tifosi no, però magari qualcuna società vuole cambiare allenatore, lui è stato coerente, i tifosi sinceramente sono stati sempre da parte mia. e dopo quando c'è unità di intenti, sinergia, dopo a gioco lungo fa la differenza. Secondo me la Sampettese è una buona squadra, non è una squadra ottima, è una squadra buona che ha differenza sicuramente fa il direttore e la società. E allora chiudiamo riproponendoti le immagini della ultima partita che ti ha visto alla guida dell'Alma nella scorsa stagione, quella di Senegallia finale play-off, vinta per 1-0 a coronamento di una serie strepitosa che appunto l'Alma costruì nella parte finale della stagione per un piccolissimo periodo nel corso dell'estate prima che la situazione rigenerasse e ci si è anche illusi che l'Alma potesse essere ripescata. Era un capolavoro, era un premio alla società e a quel gruppo che hanno vinto i play-off, secondo me, per un cavillo burocratico magari è svanita questa possibilità, ma io posso garantire che la società aveva fatto di tutto, aveva trovato soldi veri, per fare la domanda ci avevano soldi veri. Purtroppo per una piccola tra virgolette sciocchezza il suo sogno è svanita e magari se erano ripescati era merito di quel gruppo e magari anche di Mosconi. Però lì noi abbiamo fatto un girone di ritorno da primi e della classe, più punti di Pineto di tutti, ma perché quei ragazzi erano spettacolo a allenarli. Grazie ad Andrea Mosconi per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Gli auguriamo le migliori fortune per il prossimo futuro. Noi torniamo fra qualche attimo. Spostiamoci ora alla pallavolo e al terzo 3-0 consecutivo in casa per la Smart System nel campionato di A3. Sesta vittoria su 7 per la formazione di Paolo Tofori che come vediamo dalle immagini ha superato nettamente anche il Lago Negro che era annunciato come avversario all'altezza dei Virtussini. Lago Negro orfana del palloggiatore titolare Piazza è comunque mai seriamente in grado di competere con i fanesi se si fa eccezione per uno squarcio del secondo set in cui la Smart System si è un po' appisolata consentendo ai Lucani di tornare in sella al set. Smart System è superiore in tutti i fondamentali. in particolare sono stati apprezzati i progressi in difesa aspetto sul quale la squadra fanese era sembrata in deficit rispetto all'avversario che sinora aveva incrociato. Un risultato che permette alla Smart System possiamo vedere in questo senso risultati e classifica di rimanere a contatto con la capolista macerata che ha avuto la meglio su Lecce per 3-1. come vediamo dalla classifica si è formato un quartetto di squadre che sembrano essere quelle più indicate per contendersi l'assalto di categoria con Macerata a dettare il ritmo davanti appunto alla Smart System che precede a sua volta San Giustino mentre ha perso un po' contatto Lago Negro raggiunta nel frattempo da Modica Smart System che è attesa ora da una trasferta quella sul campo di Palmi formazione che sinora ha deluso le attese era in qualche modo indicata fra le formazioni della classifica di sinistra e invece sinora non è stata all'altezza delle aspettative Palmi che allinea tra l'altro l'ex Staberva restiamo alla pallavolo risalendo di qualche chilometro il Metauro per analizzare l'attività di un sodalizio storico 50 anni alle spalle per l'APA Lucrezia Calcinelli o Calcinelli Lucrezia se preferite di cui ospitiamo questa sera il presidente Massimo Scarpetti buonasera e benvenuto buonasera e l'allenatore della squadra di Serie D femminile ma anche di altri gruppi Morris Meloni buonasera benvenuto anche a lui diciamo di una realtà che ha tanti anni alle spalle di attività 50 anni la fondazione risale al 1974 se non vado errato e a questo riguardo credo che debba essere subito dedicato un ricordo particolare una figura che all'APA Calcinelli Lucrezia allo sport ha dato tanto come quella di Gianni Ordonselli di cui possiamo proporre anche l'immagine che è venuto meno nei giorni scorsi Scarpetti come vogliamo ricordare questa figura innanzitutto buonasera ringrazio Fano TV che ci ha dato comunque la possibilità di parlare di APA quindi iniziamo con il ricordo del compianto Gianni Ordonzelli che è stato un pilastro per tanti anni nella nostra società e quello che quindi ha vissuto penso gli ultimi anni più in palestra che a casa era quindi ha dedicato tanto tempo e era per un progetto a lungo e quindi io sono stato chiamato un anno fa proprio da Gianni Ordonzelli e mi ha chiesto di continuare questo suo progetto lui era diciamo un po' anziano quindi si voleva un pochino ridurre il suo tempo e quindi mi ha chiesto di continuare con altri dirigenti questa attività che lui per tanti anni ha portato avanti con dedizione con sacrificio e con tanto amore verso la pallavolo un appassionato vero che si era fatto all'epoca anche promotore di questa fusione chiamiamola così tra Calcinello e Lucrezia che ha funzionato assolutamente sì beh fra due paesini molto vicini come dove era in vigore un sano ma campanellismo da sempre quindi lui con la sua tenacia è riuscito invece a mettere insieme due cittadini di 8000 abitanti Lucrezia mi sa all'incirca così Calcinelli e veramente possiamo dire che ha funzionato perché è iniziato un percorso veramente interessante dove appunto io mi sono promesso di portarlo avanti anche nel suo segno è una promessa che gli avevo fatto e che vorrei certamente mantenere non è da poco la responsabilità di proseguire lungo questo solco mantenendo il ruolo che l'Apa Lucrezia Calcinelli si è ritagliata in questi anni che è punto di riferimento di un territorio assolutamente assolutamente sì noi poi vogliamo coinvolgere oltre Lucrezia Calcinelli l'intero territorio da Fano lungo la Valle del Metauro perché dobbiamo cercare di unire il più possibile le forze di questi paesi perché come si dice l'unione fa la forza e in questo caso è una frase assolutamente vera perché comunque la pallavolo è un gioco di squadra è un gioco di squadra dove per emergere cerchiamo di mettere in campo tutte le forze che ci sono nel nostro territorio l'investitura di Scarpetti è recente della scorsa estate ed è coincisa con una scelta strategica precisa l'Apa Calcinelli Lucrezia militava nel campionato di Serie B femminile ha rinunciato a questo campionato ha ceduto i diritti per ripartire dal cuore del proprio impegno è così? assolutamente dopo il primo anno sono entrato quindi facciamo il campionato nazionale di Serie B è un campionato molto impegnativo dispendioso sia dal punto di vista economico ma non solo anche organizzativo tanta gente che ci deve stare dietro e quindi ci siamo messi insieme ai miei collaboratori intorno a tavola abbiamo deciso di per ora parcheggiare la Serie B poi vediamo il prossimo anno come va se le cose vanno come speriamo e quindi di rinunciare per quest'anno ripartire da una categoria inferiore però con ragazze più del luogo come dicevamo del territorio e sinceramente abbiamo già l'avevamo le ragazze al nostro territorio esperte ci abbiamo messo insieme altre ragazze molto più giovani che poi qui c'è l'allenatore che quindi nello specifico ci potrà dire in merito a queste ragazze e abbiamo fatto una squadra quindi un mix di giovani e esperienza con noi c'è rimasta una ragazza molto esperta e gliene devo dare atto perché ha sposato il nostro progetto è una ragazza che ha calcato i campi fino a Serie A è rimasta con noi quindi ha trovato lavoro a Lucrezia e quindi ecco partecipa al nostro campionato ed è fiera della scelta che possiamo fare anche nome e cognome della ragazza certo è Minati Veronica e lei sì sì quindi io l'ho sentita l'abbiamo convinta ma non è stato difficile in quanto è un progetto che anche lei diciamo che l'ha entusiasmato e fa un po' da mamma a tutte queste ragazze e da quello che vedo si sono ben allineate insieme quindi hanno formato un bel un bel gruppo e se si è formato un bel gruppo il merito deve essere per forza anche dell'allenatore Morris Meloni il presidente ha già illustrato le caratteristiche di questa squadra entrando più nel dettaglio che obiettivi vi siete dati su cosa si concentra il lavoro settimanale e quali sono i risultati mi pare molto confortanti perché siete in testa anche con un discreto vantaggio nel vostro girone beh allora parto col dire che comunque questa composizione è stata un po' fortuita perché avevamo un paio di ragazze grandi che cercavano squadra delle ragazze giovani nostre anche di società vicine da far crescere quindi cercavamo il connubio perfetto poi insomma questa sintesi di giovani e grandi si è creata fortuitamente poi Veronica ha accettato la nostra proposta di farci un po' da chioccia e quindi siamo partiti un po' così poi ci siamo ritrovati ci siamo guardati in palestra ci siamo detti beh qui si può fare bene molto bene tant'è che abbiamo iniziato la Coppa Marche la fase gironi che abbiamo sempre vinto battendo anche squadre di Serie C abbiamo iniziato il campionato che vi attende di qui a breve sì domani abbiamo una gara di ritorno una gara di andata contro Pergola abbiamo vinto domani ci basterebbero insomma due set per passare il turno e invece in campionato per ora abbiamo sempre vinto giocando bene comunque sono delle partite abbastanza toste nonostante che abbiamo vinto sempre 3-0 comunque sono state delle partite abbastanza impegnative il percorso è lungo ancora la strada è difficile perché comunque però mi pare che l'ambizione ci sia e anche le basi per alimentare questa ambizione assolutamente io tengo sempre insomma le ragazze insomma sotto torchio perché il campionato è lungo non bisogna abbassare la guardia perché comunque gli imprevisti ci sono si gioca sempre contro avversari quindi insomma gli avversari devono sempre rispettati devo dare sempre il massimo i risultati contano ma conta anche a questi livelli con ragazze giovani l'attività in senso stretto pallavolistico e anche diciamo l'attenzione verso la formazione verso l'educazione di queste giovani sportive certo infatti l'accordo che ci siamo dati con le giovani e con le grandi era che comunque è giusto puntare i risultati però senza tralasciare la crescita di queste giovani che hanno due percorsi diversi giocano anche un campionato giovanile ogni tanto riescono a fare qualche ingresso anche in Serie D dove possono dimostrare il loro valore alcuni di loro stanno facendo degli allenamenti con la selezione regionale quindi sono comunque dei prospetti interessanti che stiamo cercando di coltivare se si è potuta formare questa squadra perché appunto c'è un'attività di base che continua a svilupparsi negli anni a quali numeri ci riferiamo presidente complessivamente per l'APA allora complessivamente siamo sui 250 tesserati il 70% è rivolto sul femminile la restanta parte è al maschile noi abbiamo ormai da un po' di tempo si sviluppa più il settore femminile ma forse perché nel maschile c'è anche più concorrenza di altri sport dal calcio rugby altri sport invece ecco quindi è normale che sia un po' così una parte di questi li abbiamo prestati dirottati verso altre società anche perché abbiamo una stretta collaborazione con le società del luogo tipo l'Adriatica tipo Borgo Volley in particolare per quello che riguarda la prima espressione maschile fate convergere i vostri atleti sulla Borgo Volley che disputa il campionato di Serie C assolutamente l'anno scorso abbiamo vinto il campionato di prima divisione mi pare maschile e quindi abbiamo fatto la scelta di confluire qualche nostro giovane il più bravo diciamo con la Borgo Volley dove insieme stiamo facendo la Serie C quindi altre ragazze da loro sono da noi e viceversa perché comunque questo il fatto di collaborare secondo me è una cosa positiva ma l'altra cosa lavorando mi preme dire sui giovani è che quello che cerco di intendo mi sono mi sono prefisso proposto è di cercare di aumentare gli iscritti io vorrei tanto aumentare gli iscritti perché i ragazzi portarli in palestra gli diamo delle regole noi abbiamo dei bravi istruttori allenatori ma non solamente per il gioco della pallavolo ma perché voglio dire che nella pallavolo vengono rispettate le regole di qualsiasi tipo regole di gioco regole di orari regole di comportamento e quindi questo è una cosa che ci teniamo e io personalmente ci tengo tanto a sviluppare questo questo percorso fatto dai giovani cominciando dal mini volley a salire under 13 14 via dicendo su questo piano Meloni quanto è difficile quanto è complicato rapportarsi a ragazze giovani in un'epoca in cui le distrazioni sono tante le situazioni molteplici insomma non è così facile semmai è stato facile come qualche anno fa no no è sempre sempre complesso e ogni anno ti trovi delle cose diverse ogni anno cambi quindi anche noi allenatori dobbiamo sempre rinnovarci perché che abbiamo davanti anche se è la stessa persona l'anno dopo magari non è più la stessa quindi comunque c'è da dire che in palestra stiamo lavorando molto bene con gli allenatori abbiamo anche diciamo una collaborazione con un'altra società ci sentiamo spesso ci confrontiamo perché ovviamente il percorso di ogni allenatore va avanti non solo con la ragazza ma anche tra di noi il coinvolgerci il confrontarci e del resto è una realtà quella locale a livello pallavolistico che ha una storia talmente profonda e ricca che da questo punto di vista davvero non ci si fa mancare niente impianti dove svolgete la vostra attività e se questi impianti rispondono alle vostre aspettative e alle vostre esigenze purtroppo questo è un argomento sempre dolente dolente complicato soprattutto quest'anno che noi per fortuna abbiamo il nostro palazzetto a Lucrezia ma quest'anno ci manca la palestra di Calcinelli che è in corso di ristrutturazione è una ristrutturazione importante e quindi durerà un anno e quindi quest'anno ci mancherà completamente per tutto l'anno la stagione agonistica 2023-2024 la palestra di Calcinelli e quindi ci dobbiamo un pochino arrangiare con altre palestre limitrofi piagge qualcosa cerchiamo di mi pare facciamo due campi anche nel nostro palazzetto per gli allenamenti quindi sarà un anno fatto di sacrifici speriamo che il prossimo anno di avere un impianto nuovo che è molto importante anche perché spostare i ragazzi soprattutto del mini volley elementari è complicato quindi già solo spostarsi di qualche chilometro diventa complicato e questo purtroppo dobbiamo fare un po' di sacrifici per gli spostamenti per fortuna abbiamo anche dirigenti volenterosi che quindi si adoperano sono molto presenti e che vorrei ringraziare perché sono molto molto importanti per noi per tirare avanti tutta l'attività che andiamo a svolgere parliamo di sport dilettantistico fondamentale il contributo di persone che fanno questo tipo di cose a livello totalmente disinteressato però comunque ci sono dei costi da sopportare c'è qualche sponsor che vi aiuta? assolutamente sì ci stiamo lavorando ci sono degli sponsor che ci aiutano per fortuna perché purtroppo i costi degli impianti sono aumentati notevolmente causa del caro bollette caro bollette acqua e gas è stato quindi abbiamo lavorato anche su questo quindi quest'anno abbiamo due main sponsor quindi dalla BCC di Fano alla ditta Thermo Medica Cinelli che ci supportano poi abbiamo tanti altri sponsor che stiamo ancora cercando perché gli vogliamo anche loro far capire il progetto che facciamo e secondo me poi c'è un altro discorso da fare con la nuova riforma allo sport è ancora più complicato oggi a gestire a gestire le società sportive lo sappiamo benissimo per quello dobbiamo cercare di moltiplicare gli sponsor ma anche piccoli sponsor da un semplice cartellone a una scritta sul pantaloncino o una scritta sul pulmino rendendoli però partecipi di questo vostro progetto esatto perché partecipi di questo progetto che vogliamo tirare avanti sui giovani soprattutto come dicevo del territorio grazie a Massimo Scarpetti presidente dell'APA Calcinelli Lucrezia grazie a Morris Meloni allenatore della squadra di Serie D femminile noi torniamo fra qualche istante non è la prima volta che ci dedichiamo alla ginnastica e di certo non sarà neppure l'ultima perché la ginnastica su questo territorio svolge un ruolo importante è una realtà ampia articolata che ha un suo trascorso un suo presente e soprattutto si può immaginare che abbia un futuro altrettanto rilevante dicevamo di una realtà articolata diverse le società che operano e tra queste sicuramente in evidenza su questo territorio il fanese ma non prettamente il fanese e basta l'Olimpia Ginnastica Cucurano di cui ospitiamo il dirigente Enrico Nicolelli buonasera e benvenuto buonasera grazie Andrea buonasera a tutti i telespettatori Olimpia Cucurano cominciamo dall'ambito più vasto dello sport che si è sviluppato in questa frazione nei decenni un po' di storia appunto di questa Olimpia Cucurano quando è nato il tutto ci vorrebbero tre puntate forse per spiegare tutta la storia dell'Olimpia comunque l'Olimpia nasce a fine degli anni 40 quindi immediatamente dopo la guerra nel 49 con una società calcistica amatoriale ovviamente perché allora non si facevano campionati dilettantistici poi in corso degli anni si sono susseguiti vari sport tra cui il ciclismo il judo in parte anche la pallavolo e una delle ultime calcio a 5 per tanti anni e una delle ultime discipline nate è appunto proprio la ginnastica alla fine degli anni 80 esattamente nell'88 e ci si chiede perché proprio la ginnastica? ma nacque con la classica società insomma fatta in famiglia con delle persone volonterose un insegnante di educazione fisica che aveva avviato i corsi per le bambine diciamo pomeridiani e i primi corsi si tenevano nella vecchia scuola elementare di Cucurano non era una palestra ma era una sala praticamente perché non esisteva una palestra e la società venne creata in funzione della palestra che poi da lì a poco sarebbe nata cioè la palestra Biagioni quella che attualmente è ancora in funzione nella frazione di Cucurano e da lì poi si sviluppò insomma la società di anno in anno gli iscritti erano sempre più numerosi soprattutto iscritte bambine insomma ragazze della zona di Cucurano e Carrara delle frazioni limitrofe che trovavano insomma nella ginnastica un'attività interessante piacevole da fare e quindi da lì si è partiti insomma con questa realtà che oramai da più di 30 anni è radicata nel territorio in particolare modo nella periferia fanese immagino che attorno ai pionieri si sia creato un gruppo di persone che inizialmente magari erano dirottati verso altri sport che poi si sono convertiti alla ginnastica sì assolutamente diciamo che il calcio nella polisportiva la faceva un po' da padrona e quindi la maggior parte dei dirigenti seguiva il calcio però pian piano anche questo sport tutto sommato nuovo per l'epoca perché poi ci si indirizzò subito verso la ginnastica ritmica quindi una disciplina ben precisa nell'ambito della ginnastica questo sport incuriosiva molto e quindi insomma i genitori le mamme insomma si davano da fare per cercare di ecco non far mancare niente a questo gruppetto di ragazze e di insegnanti insomma che portavano avanti questa attività i primi saggi si facevano all'aperto nel parco di Cucurano fino agli 80 primi anni 90 poi arrivò ecco la palestra Biagioni e quindi da lì l'attività si sviluppò in maniera in maniera costante e credo appunto che la costruzione della palestra Biagioni all'inizio degli anni 90 vi ha dato grande impulso anche perché per dimensioni si presta bene per la ginnastica poi parleremo di quella che è l'attività che si svolge in questo periodo in particolare alla Biagioni assolutamente la palestra era una palestra molto capiente seconda come dimensioni è soltanto il palazzetto dello sport per cui era una palestra ottimale per l'attività di ginnastica e noi chiaramente la utilizzavamo in maniera strutturata e poi anche altre società sempre di ginnastica che nel corso degli anni si sono susseguite e hanno svolto alcuni allenamenti lì compreso la società che poi hanno fatto Serie A i campionati internazionali fino agli Olimpiadi perché sai bene che Fano e diversi ginnasti hanno partecipato nel mondo della ginnastica in particolar modo la ritmica alle Olimpiadi Prima di addentrarci nel merito dell'attività che l'Olimpia ginnastica svolge ora ti pongo anche questa domanda come mai la ginnastica ha questa presa in questo territorio merito di chi l'ha introdotta o ci sono anche altri elementi sicuramente merito di chi l'ha introdotta ma anche io dico per la passione e la competenza che poi i dirigenti delle varie società hanno portato all'interno di questo settore diciamo effettivamente è un periodo insomma di un stato di grazia sostanzialmente per questo sport perché insomma abbiamo varie discipline tutte con atleti di punta e molti atleti non soltanto si allenano Fano ma sono proprio originari di Fano quindi diciamo che c'è stata prima la buona volontà poi la lungimiranza e poi la struttura giusta per sviluppare questa disciplina che è molto difficile è molto difficile insomma la federazione ginnastica si articola in diverse discipline dall'artistica alla ritmica al trampolino all'aerobica eccetera ma tutte sono discipline molto complesse dove le ore di allenamento sono tante e se non hai una buona organizzazione alla base oltre che dei tecnici validi non riesci a portare avanti l'attività perché non riesci a competere insomma con gli altri devo dire che da noi c'è stata lungimiranza competenza e grande passione perché quella è la base di tutto niente si improvvisa specie in questo sport il vostro specifico è la ritmica ma parliamo del bacino d'utenza al quale vi rivolgete cucurano certamente è la vostra culla ma non solo cucurano vi espandete in particolare verso l'entroterra esattamente la società nasce a cucurano quindi in periferia nasce da una palestra che chi ebbe la volontà di portarla proprio in quella frazione la portò perché voleva dare dei servizi anche nelle zone dove c'erano pochi servizi e chiaramente un impianto sportivo di quel livello era un servizio ottimo alla fine degli anni 80 per una frazione come cucurano la nostra filosofia è rimasta simile è rimasta questa nel corso degli anni perché a noi piace dare un servizio la possibilità di fare un'attività sportiva in questo caso in quelle zone dove è meno diffusa l'attività sportiva e quindi noi da cucurano andiamo un po' all'indietro risaliamo la vallata e ci spostiamo verso Lucrezia Calcinelli da un paio d'anni abbiamo la palestra di Monte Felcino dove facciamo corsi di ginnastica artistica e anche la palestra di piagge quindi il comune di terre roveresche nasciamo come ritmica ma poi da una decina d'anni anzi anche di più ormai quasi 15 ci sviluppiamo anche come artistica la sede è Calcinelli abbiamo preso una struttura nella zona artigianale di Calcinelli dedicata esclusivamente alla ginnastica artistica dove abbiamo tanti iscritti e poi abbiamo un corso appunto come diceva a Monte Felcino nella palestra comunale che ci permette insomma anche lì di diffondere questa pratica alla base di tutto comunque ecco la società nasce come ritmica e la palestra di Cucurano ancora insomma sono le nostre squadre che si allenano quotidianamente da sottolineare che portate una proposta di sport in centri in cui questa proposta manca del tutto è solo parziale sì è un po' la politica della nostra associazione sostanzialmente ecco a noi piace dare una possibilità anche in quelle zone dove comunque c'è meno attività perché comunque ci sono meno possibilità anche meno diciamo realtà strutturate come la nostra di poter fare uno sport e in particolare modo la ginnastica che è uno sport di base quindi un po' alla base di tutti gli sport quindi un bambino o una bambina che per 3-4 anni da piccolo fa ginnastica poi può anche chiaramente pensare di fare con una qualsiasi altra attività sportiva perché comunque l'attività di ginnastica come dicevo prima è un po' alla base di tutti gli sport i numeri non sono tutto ma hanno il loro peso di quale volume di attività parliamo noi guarda arriviamo quest'anno oramai a 300 iscritti diciamo che dopo la pandemia abbiamo ripreso alla grande per fortuna c'era molta voglia di riprendere da parte delle famiglie dei genitori delle bambine dei bambini in particolar modo e quindi in tutte le nostre sedi insomma tra ritmica e artistica sfioriamo le 300 unità come iscritti con 10 istruttori e istruttrici tutte qualificate perché chiaramente insomma senza una qualifica specifica non si può insegnare è un'attività difficile come la ginnastica vi rivolgete ad una platea di praticanti di giovanissime e maggior ragione in questo caso bisogna fare attenzione all'aspetto educativo e formativo assolutamente sicuramente sì diciamo la nostra utenza è molto giovane si parte dai 4 anni fino all'età adolescenziale ma siamo attenti anche alle persone più adulte perché proprio a Lucrezia abbiamo anche un corso di ginnastica per la terza età storico anche lì da più di 20 anni lo facciamo quindi questo per dire che la ginnastica si può fare in tante forme e quindi non è soltanto quella che poi si fuoce nel settore agonistico ma anche una ginnastica di mantenimento di benessere fatto per le persone adulte hai fatto cena ad un corpo di istruttrici qualificato e in effetti la ginnastica richiede un background molto specifico e anche un aggiornamento continuo credo sì assolutamente per fortuna diciamo che le ragazze che operano da noi sono tutte molto competenti volenterose e hanno voglia insomma di migliorarsi e di imparare la federazione chiaramente mette a disposizione la formazione perché è indispensabile insomma aggiornarsi annualmente per quanto riguarda l'insegnamento e quindi diciamo che ecco da questo punto di vista siamo molto soddisfatti insomma della squadra che abbiamo perché comunque preparano le ragazze e i ragazzi perché abbiamo come vedete anche alcuni maschetti che fanno attività in maniera ottimale abbiamo anche un settore agonistico insomma abbastanza fiorente prima sono passate le immagini siamo stati proprio nello scorso weekend a Campobasso ai campionati nazionali di ginnastica ritmica di specialità questa è la nostra squadra squadra d'insieme che a giugno ha partecipato ai campionati nazionali a Folgaria quindi insomma un'attività ecco qua la foto insomma della ginnasta questa è la squadra junior quindi insomma anche un'attività agonistica di alto livello nella ritmica e di buon livello nell'artistica perché anche lì facciamo un'attività diciamo un po' diversa dal punto di vista tecnico ma comunque sempre di stampo agonistico dove appunto abbiamo insomma parecchi ginnasti e ginnasti che gareggiano in varie discipline nel frattempo il vostro quartiere generale non è più la palestra Biagioni ma la palestra della nuova scuola di Carrara Cucurano c'è stato un passaggio di consegne anche istituzionale nella gestione della Biagioni in cui sei sedata l'Alma Juventus palestra Biagioni che però nel frattempo è diventata soprattutto sede dell'Accademia di trampolino ci vuoi spiegare questa evoluzione? Sì esatto proprio quello che dicevamo prima che comunque Fano ha una storia oramai recente anche passata importante di ginnastica l'ultima disciplina che si è diffusa è appunto il trampolino elastico in particolar modo con la società di Fano l'Alma Juventus che chiaramente ha necessità di una struttura fissa i trampolini sono strutture piuttosto grandi e di difficile rimozione quindi non si possono mettere e togliere tutti i giorni per cui ecco si è trovata una forma diciamo che andasse bene alla società di trampolino di insediarsi appunto nella palestra Biagironi di Cucurano e comunque noi abbiamo ancora in parte il nostro spazio per le ragazze che si allenano della ritmica nel frattempo con la nuova scuola elementare è nata un'altra palestra la Cucurano che è sicuramente un impianto ottimale anche questo per l'attività che svolgiamo noi quindi diciamo che tutta l'attività di base e in parte anche l'agonistica adesso la svolgiamo nella palestra nuova insomma della scuola elementare e devo dire che questo ci ha dato un bel impulso perché chiaramente poi anche le famiglie le bambine insomma che vedono un impianto nuovo ben tenuto insomma e appunto spazioso sono più incentivati insomma a iniziare l'attività non sempre i rapporti tra società che operano all'interno dello stesso sport sono idilliaci e armonici mi pare che nella ginnastica invece le cose funzionino forse per il fatto di avere un referente ai massimi livelli il presidente della fede della ginnastica Tecchi hai fatto cenno all'Alma Juventus che è in mano in pratica Giuseppe Cocciaro che è il responsabile nazionale tra l'altro della specialità del trampolino sì esattamente oltre ovviamente a Paola Porfiri esatto stavo ha pure nel suo caso incarichi nazionali stavo completando appunto la triade insomma di figure importanti a livello nazionale che abbiamo a Fano no devo dire che c'è collaborazione insomma pur siamo tutti all'interno della stessa casa che è la federazione di ginnastica di cui sei consigliere regionale io sono anche consigliere regionale esatto le discipline sono diverse però c'è collaborazione e devo dire che questo è la la parte importante è lo snodo un po' per alzare il livello no? perché poi non parliamo neanche di competizione interna perché poi le discipline come dicevo prima sono diversi ma la capacità organizzativa gestionale ecco quella è sicuramente fondamentale per avere delle realtà strutturate come abbiamo qua nella città di Fano insomma e devo dire che sì effettivamente noi adesso dividiamo la palestra in parte la palestra Biagioni appunto con l'Accademia di Trampolino ci sono i ragazzi che sono tornati proprio la scorsa settimana dai campionati del mondo quindi insomma diciamo che le cose vanno vanno bene insomma c'è una buona collaborazione anche uno stimolo reciproco insomma a far bene e sicuramente questo giova al settore ginnastica senza dubbio ti hanno preceduto su quello sgabello recentemente proprio il presidente della fede della ginnastica Tecchi in passato anche Paolo Porfiri con Laura Zachilli e tutti quanti hanno sottolineato quasi inevitabilmente l'assenza di un impianto di un palazzetto dello sport a Fano che con la ginnastica proiettata ai massimi livelli avrebbe consentito proprio alla ginnastica di produrre eventi di rilievo internazionale in qualche caso proprio a Fano e allora qui ti chiamo in causa come dirigente dell'Olimpia Cucurano ma anche come rappresentante politico amministratore locale quanto manca un impianto di questo genere a Fano e perché non c'è ancora un progetto di un palazzetto a Fano è un vulnus che purtroppo non riusciamo a colmare questo è vero questo è indiscutibile insomma adesso al di là insomma di chi si è avvicendato nell'amministrazione locale purtroppo sì perché parliamo di decenni sì esatto diciamo il palazzetto dello sport se così vogliamo chiamarlo la palestra palazzetto Allende insomma è chiaramente inadeguato già da 30 anni insomma da quando la Virtus ricordo giocava in Serie A2 e poi in A1 negli anni 90 quindi diciamo la carenza è cronica e questo è un problema perché sicuramente si perdono molte occasioni io adesso parlo del mondo della ginnastica in questi ultimi 15 anni si sono organizzati tantissimi eventi di caratura internazionale e se ne continuano ad organizzare diciamo che il gruppo di lavoro parte da Fano ma si sposta poi inevitabilmente in città dove ci sono strutture adeguate non solo sportive ma anche ricettive e questo è un peccato perché chiaramente Fano potrebbe avere un risalto internazionale che in questo modo non ha quindi diciamo che un po' la trascuratezza di questa appunto dell'impiantistica dell'impiantistica fanese poi produce questi risultati negativi e sono gli unici perché poi i risultati sportivi vediamo bene come funzionano per fortuna quindi ci vuole una così anche lì una volontà ben chiara e precisa di portare a termine un progetto che però purtroppo nasce è nato tante volte ma non ho mai fatto un passo in avanti per essere insomma per andare avanti siamo fermi lì siamo fermi all'idea diciamo neanche alla progettazione all'idea all'idea alla localizzazione ma poi progettazione finanziamenti chiaramente sono altra cosa è lì che c'è il lavoro vero da fare e purtroppo insomma questo ancora non è stato fatto grazie ad Enrico Nicolelli dirigente dell'Olimpia Ginnastica Cucurano grazie come sempre anche a voi per averci seguito vi aspettiamo la prossima settimana grazie a tutti